Sono 18 i nuovi casi di covid-19 messi a referto dalla ASL nella giornata del 1 dicembre in centro Abruzzo. 14 a Sulmona, 2 a Pacentro, 1 ciascuno a Pratola Peligna e Raiano. Il capologo Peligno continua a portare la bandiera nera per il più alto numero di nuovi positivi registrati nella stessa giornata. Sulmona resta epicentro del contagio anche se si tratta nella quasi totalità di positività in qualche modo attesa perché gestire dalla ASL. Il virus continua a correre tra i più piccoli tant'è che un terzo dei nuovi casi, ben 6 su 18, sono minori dei 5 e 17 anni di età. Per questo l'Ufficio Igiene e Prevenzione ASL ha diramato altri due provvedimenti per le classi di riferimento che saranno convocate per il tampone molecolare. Per le scuole nella serata di ieri è arrivato il controordine. Non più una quarantena con un solo positivo in classe ma tamponi al primo e al quinto giorno come da recente normativa. Nella casella dei nuovi casi sono finiti per il resto tre nuclei familiari sulmonesi composti da tre o quattro persone. A Prato l'ha contagiato un giovanissimo di 17 anni mentre il virus colpisce anche Pacentro con le positività di una 46enne e un 49enne. Chiude il cerco dei contagi Raiano con un 30enne che però non risulta domiciliato. Complessivamente sono 322 gli attuali positivi in centro Abruzzo di cui 182 residenti a Sulmona. Nelle ultime ore sono guarite 16 persone. Il lieve rialzo i sorvegliati che passano dai 526 di ieri a 532 di oggi mentre restano 15 ricoveri segnati nei registri ASL. Intanto a Rocca Casale si è resa necessaria la chiusura degli uffici comunali da oggi primo dicembre fino a sabato 4 per la capillare sanificazione degli spazi dopo la positività riscontrata sul sindaco Ricco Pace con il test antigenico. Il primo cittadino si è sottoposto oggi al tampone molecolare. L'effetto del Super Green Pass si sta vedendo sulle prime inoculazioni tanto in Abruzzo con un incremento del 54 per cento quanto a Sulmona. Nell'hab vaccinale dell'incoronata sono state infine inoculate 208 dosi con un'accelerata sulle terze somministrazioni che fortunatamente non si ferma.